Il progetto Larmadio è un progetto che è stato vinto dalla cooperativa Labyrinth e noi come ambito e comune di Pesaro siamo partner. Si occupa principalmente di due settori nel campo della violenza di genere. In modo particolare quei due settori che fino a oggi erano stati meno affrontati, perché chiaramente avevamo messo al centro sempre il sostegno e il seguire il percorso della donna vittima di violenza. Si tratta della violenza assistita, quindi dei minori che assistono dentro casa a scene di violenza, quindi tutta una serie di interventi nei confronti dei minori. E poi l'altro aspetto è quello dei maltrattanti, incominciare a occuparci dei maltrattanti, quindi vedere anche che tipi di percorsi fare per queste persone, tenendo conto anche che in questo momento noi viviamo un'ingiustizia grande, nel senso che in genere è sempre la donna col bambino che devono spostarsi dalla propria abitazione, quindi cambiare abitudini, scuole e tutto. Ecco, incominciare a fare degli interventi sia per aiutare i maltrattanti, ma anche per aiutare le donne a rimanere nella propria abitazione. La realtà è una realtà, purtroppo, sempre abbiamo avuto un periodo nel lockdown che abbiamo avuto meno segnalazioni, ma molto ovviamente è dovuto a un problema che la figura maschile era dentro casa. Le domande ci sono, continuano a esserci, noi abbiamo continuato a dare il servizio sempre, anche a distanza. L'impegno che ci siamo presi nel 2021 è di aprire due nuovi sportelli, cioè il centro antiviolenza rimane a Pesaro, però apriremo due sportelli a Urbino e a Cagli, proprio per aiutare anche le donne che farebbero fatica a venire a Pesaro a fare i colloqui. Grazie. Grazie.